musica 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 buona ragazzi qui sul mio canale qui con dijkigame95 siamo qui nuovo video, nuovo partito con il mio amico mio seya pegasus salve a tutti ragazzi comunque si dice seya di pegasus jackie tranquillo come tanti mieci miei sbagliarono dire il mio nome sbagliarono anch'io e altri nomi giustamente comunque salve ragazzi siamo tornati ancora una volta seya di pegasus anzi djjkigame versus seya di pegasus questa volta in onda sul suo canale su un pro stato non più partite come interiù ma ultimi team useremo io uso la mia serie b si ragazzi ho fatto la serie b farò un po' cacare perchè lui guardate la sua serie b contro la mia squadra principale si vedremo delle belle esatto queste squadre di fenomeni dai chi cazzo è questo qua gioco a partita ole questa è la tua squadra della serie b si guarda le mie squadre di fenomeni eh vabbè c'hai montolivo c'hai quel terzino destro ma faccia il resto schienzo eh vabbè se riesci a vincere è un miracolo appunto diciamolo io fa sfotti fa sfotti che cosa no 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 c'è grande pressione su di lui non lo farei mai cannovo team adesso su djjkigame team allenatore ha scelto di mandare in capo la formazione che bellissimo classico 4 4 2 oh attenzione ma djkigame team djkigame attacco no che cagata di passaggio ma djkigame ma djkigame è un giocatore forte eh è un giocatore molto forte dei gol si c'è nella romana giocatore giocatore e forse veniva con un giocatore decente che ciò no c'è anche montolivo no montolivo da vedere no 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 uh 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 cosa cazzo fai marcosau vai marcosau marcosau cosa fai ma dove vai marcosau 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 il bagatone marcosau ci pensa lui ma che djkigame io rimango a ripinto e senza parole senza parole da 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 no c'è guarda guarda l'azione c'è guarda opla opla oh e boh guarda non si può fermare è infermibile infermabile marcosau 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 via si libera dell'avversario marcosau 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 che cosa è successo perché hai quitato io non ho quitato non mi devi dare vittoria vabbè hai vinto a te che palla per questo gioco di merda vabbè le facciamo dai le facciamo un'altra aspetta che mi hanno pure suonato aspetta mi hanno pure suonato Eccoci qui, allora ragazzi, non so come è successo, ma dobbiamo rifare molta partita Un piccolo problema tecnico dovuto alla merdosità di FIFA 16 Ma siamo tornati, ovviamente FIFA 16 manda da me la vittoria, quindi ringrazio FIFA per questa vittorietta Ovviamente lui vince in modo totalmente indegno due tiri e due gol, però va bene Ovviamente ragazzi gli faccio vedere poi i gol di nuovo dopo, quindi ragazzi avete i gol prima di questa partita qua Quindi dopo, tanta roba Sì sì, fai proprio quello sbuffone che adesso ti rompio, ti faccio un tappo di culo che sto così Da, vediamo, vediamo se riesco a perdere Ti uccido, ti smacino adesso Va bene Tanto sa, ti fa il culo ancora Te lo dico Sì sì, minchia, gli faccio un falo che gli spacco, guarda, sto sa, un'altra Baggato dal cazzo Sai che mi porta la partita, il cannolo di ricerca vendetta con sangue agli occhi L'allenatore ha scelto di mandare in campo una formazione piuttosto equilibrata Uh, ma che cosa cazzo fai non tolì? Madonna Uh, postigo Peccato che... Molonno Dai, oh papelo Non ci arrivi Marco Sauer Ti supero la velocità Attento Marco Sauer Ecco il mio partiere che... Cerca di farmi venire un infarto Eh già Dai, dai Dai, Diego Parker No ragazzi, io veramente, io... Mamma mia, sono rari Cosa ho visto? Cioè, cosa bisogna fare per... Cioè, cosa devo fare per segnare un gol? Eh, tanto Anni mia Non ho toccato la gamba a te Con questo era un buon pallone al centrocampo Allora, farlo Eh, però la pace vedi tu Ma poi, un po' di un cane... Il passolo Driguez Il passolo Driguez Eh, il passolo Driguez veramente, il passolo Driguez Ah, come cazzo fa A non prenderlo Ma dove cazzo... Ok Mokulu 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 Che gol Mokulu Cioè, guarda che gol Guarda che gol Pam E chi la piglia più? Nell'angolino Mokulu Kitticulu Cioè Ma una palla di merda era, dai Ma è ancora sempre bello Andre Rossi Di testa per i compagni Oh, minchia Porta Eh, dai Un passaggio decente lo sanno fare Cupis Cupis Ancora Mokulu Mokulu Fisca l'arbitro Mokulu Mokulu Fallo Fallo, arbitro, fallo Te l'ha fatto fischiato Artiglia bene il pallone Cosa vuoi di più? Mero Cano Non ho fatto niente È caduto da solo È caduto da solo Ma lo so Ma per questo mi Incazzo Non me l'ho toccato Per quello che Ma Cariello Finisce qui 1-0 Alla fine Ma che cazzo Fini primo tempo Ma cosa finisca Adesso che sto Incazzo Fini primo tempo Fini primo tempo Al trentattesimo Non puoi Eh Mamma mia Cosa ho fatto Eh No, non vuole Ma la fa un culo Attenzione No, non è fuori gioco Non è fuori gioco Non è fuori gioco Si ci godo Che truffa sta partita Mamma mia Noo Noo E dai Passa la bella Viene affrontato da un avversario Grande tempismo in questa 11 Noo Corri Non è fuori gioco Ultima azione Ultima azione È incredibile Un'entrata decisa e efficace Non va via sta boccia Sta boccia non va più via Una cosa ghiacciante Non va più via sta boccia Guarda non va più via Non va più via Via sta boccia È finita E fa focuro Sta boccia non va più via Incredibile Quindi è finita 1-0 E questa valida Incredibile veramente Si vede un'altra partita Se volete un'altra partita così Con me contro Saiya Pegasus Di nuovo Su su canale mio canale Con ultimi team 15 like per il prossimo video 15 partite rubate 15 partite rubate Valedetto Vabbè ragazzi Mi hai ribattuto Devo dire che sono una bella la vita, un po' fortunato di JJK Gamer, però va bene, e il calcio è la legge di film, è un gioco di merda va bene, il momentum mi colpisce sempre va benissimo alla prossima io lo uccido proprio col sangue proprio brenato ci vado e niente ragazzi, siamo raggiunti alla fine di questo video come appena detto in lingue, JJK Gamer vuole 15 like su questo video e ieri dovete dare 15 like immediatamente, e iscrivetevi anche al suo canale, se no, questo fondo da mazzate, se no quindi bella alla prossima, bella ciao 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 ciao